Buongiorno a tutti ragazzi, sono Gilibe e sono qui oggi tornato a presentarvi un video importantissimo ovvero vi spiegherò quali sono le motivazioni principali per le quali io tendenzialmente vendo le azioni ci tengo a precisare che questo video qua molto probabilmente non lo taglierò perché 1. sono in ritardo, 2. non so tanto bene e 3. non ho troppo tempo per farlo perché devo tornare a lavorare detto questo ho in mano questo libro qua che è Warren Buffett e l'interpretazione dei bilanci che è un video che ragazzi vi ho consigliato già lo scorso video è un libro che mi ha fatto impazzire completamente perché lo trovo spettacolare e in questo libro nelle ultime mi pare 5 pagine viene spiegato tendenzialmente quali sono le principali motivazioni per cui Warren Buffett vende le proprie azioni io avevo già diciamo 3 miei metodi per capire se effettivamente ne valeva la pena vendere o mantenere le posizioni ma le mie 3 motivazioni sono state confermate nel momento in cui ho letto questo libro qua le principali motivazioni ve le riassumo un attimo e sono la prima si verifica quando si ha bisogno di denaro per investire in un'azienda ancora migliore ad un prezzo migliore questo cosa vuol dire quando reputo ad esempio prendiamo un esempio come vi dicevo io ho tesla in portafoglio ma sta raggiungendo dei prezzi che sono per me follia e come vi dicevo il mio price target per uscire è intorno diciamo agli 888 che sarebbe quello che secondo me sarà il prezzo tra 5 anni a quel punto lì il prezzo dell'azione adesso è 880 tentativamente sta raggiungendo quello che è un potenziale mio prezzo di vendita quindi in questo caso qua se dovessi vedere che tesla diciamo raggiungerà all'incirca i 900 dollari per azione potrei pensare di vendere perché perché ho altre azioni su cui secondo i miei calcoli si può guadagnare ancora il 10% anno per i prossimi 5 anni quindi se io vendessi questa posizione qua avrei sicuramente possibilità di trarre più profitto nell'acquisire un'altra azione e quindi diciamo che la prima motivazione è nel momento in cui ci sono migliori opportunità magari meno rischiose non è detto per forza che siano azioni che ti facciano guadagnare di più ma potenzialmente potrebbero essere tranquillamente azioni che ti fanno rischiare di meno a parità di rendimento se io ho due azioni un'azione che secondo i miei calcoli mi rende il 10% anno e l'altra anche mi rende il 10% anno ma sono in due settori che io uno reputo più rischioso dell'altro andrà a investire per forza in un'azione che è meno rischiosa secondo i miei calcoli quindi potete tranquillamente pensare di vendere e iniziare magari a investire nell'altra la seconda si verifica quando sembra che la società stia perdendo il suo vantaggio competitivo durevole ad esempio un esempio lampante potrebbe essere quello che è stato Nokia all'incirca intorno penso al 2008-2009 quando Nokia tendenzialmente aveva un vantaggio competitivo straordinario nel mercato europeo però tendenzialmente si è fatto sovrastare da Apple e da tutte quelle compagnie che avevano puntato fortemente sugli smartphone abbiamo visto che tendenzialmente Nokia non è riuscita subito a capire l'importanza dello smartphone infatti non ci ha creduto è arrivata solo anni dopo e ha perso quel vantaggio competitivo questo ha fatto crollare una delle azioni più iconiche degli ultimi vent'anni probabilmente perché Nokia era... forse c'era anche un titolo di Forbes che parlava dell'impossibilità di Nokia di perdere... ecco era questa qua quella di cui vi parlavo 1 miliardo di clienti riuscirà qualcuno a diciamo prendere il re dei telefoni? come possiamo vedere diciamo che Apple ce l'ha fatta questo diciamo è il primo metodo che ci fa capire qual è la perdita di un vantaggio durevole che durava all'incirca da 20 anni penso forse un pelo di meno però tendenzialmente sono stati 10-15 anni di dominio assoluto di Nokia e per scelte manageriali non si è puntato sugli smartphone si è perso quello che era il vantaggio durevole niente decidiamo di vendere anche se andiamo a perdere dei soldi è molto meglio tendenzialmente disinvestire in azioni che non crediamo più abbiano un vantaggio durevole e andare a investire in azioni che secondo noi hanno un vantaggio durevole pensate se nel 2008 aveste fatto il cambio tra azioni Nokia e aveste preso le azioni Apple diciamo che ci avreste guadagnato un pochino considerate che le azioni Apple facciamo dal 2009 adesso hanno performato il 2200% mentre se noi andiamo a vedere le azioni Nokia scusate la bistudine mi fa scrivere il mio vabbè possiamo vedere come dal eh vedete nel 2000 facciamo 2000 beh forse era meglio prendere il 2008 perché era quando inizia a crollare però prendiamo nel 2009 facciamo da qua Nokia diciamo ha perso il 72% quindi potete capire come tendenzialmente la perdita di vantaggio durevole è qualcosa che fa crollare nel lungo termine nel lungo termine le azioni il terzo invece si verifica durante i mercati a rialzo quando il mercato azionario preso da una frenesia all'acquisto Bitcoin fa schizzare verso l'alto tali società fantastiche questo cosa vuol dire? è l'esempio lampante di Tesla per me Tesla è un'azione che potenzialmente ha un futuro per quanto mi riguarda certo è un futuro durevole un vantaggio durevole ovviamente diciamo che dovrà competere con Nio ma quello è un altro discorso Tesla se noi andiamo a vederci il grafico di Tesla ci può far capire che ipoteticamente se noi vendessimo adesso guardiamo un attimo il grafico dopo un rally del 1200% diciamo che potenzialmente ci sono tutte le carte in tavola per vendere e evitare che appunto ci scoppia in mano la bolla e noi rimaniamo in mano con un bel cerino secondo i miei calcoli tendenzialmente Tesla si potrebbe quasi pensare di vendere infatti vediamo nel pre-market fa già un meno 2 e 53% ma sono molto imprevedibili le azioni del genere tendenzialmente se avete piacere di avere un portafoglio un po' più sicuro secondo me Tesla attualmente converrebbe venderla ma non si sa mai detto questo io spero che questo video vi sia piaciuto lasciate un bel like un commento di niente ragazzi mi chiamo al prossimo video video